Grande successo per la serata di ieri al Donova di Cittanova Marche, organizzata da Linear Wheel. Lo spirito della serata è stato quello di promuovere l'amicizia. Il club di Cittanova Marche, infatti, ha organizzato la serata per il service in favore della Croce Verde. Si è attivato per contribuire all'acquisto di Saturimetro e Barelle Spinali. La location scelta per l'evento si è prestata in modo eccellente, sia dal punto di vista logistico, sia per quanto riguarda l'organizzazione della serata e del trattamento speciale riservato al club e allo scopo benefico che si stava perseguendo. La serata è stata allietata dalla sfilata organizzata dalla Irvana Maiolatic Knit Couture di Macerata, che ha presentato modelli glam e di alta qualità. A fine serata, il club ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla serata e coloro che hanno partecipato mediante erogazioni liberali senza essere intervenuti. Era anche presente il presidente del Rotary Club di Cittanova, ovvero Amir Hamadi. A fine serata, il club ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla serata e coloro che hanno partecipato alla serata e coloro che hanno partecipato alla serata. A fine serata, il club ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla serata e coloro che hanno partecipato alla serata. A fine serata, il club ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla serata e coloro che hanno partecipato alla serata.